Cracket, cracket, gene, cracket. Sto spusciando. Terra. Terra, anche l'elicottero. L'ho uscito con l'elicottero. Confermatelo, confermatelo. Qua a destra. Cotto, ce ne è sotto uno, ce ne è sotto uno. Oh, bagno, 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 bagno. Ciao YouTube, benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo qui sul secondo canale perché intanto siamo live proprio adesso sul canale Viola dalle 13.30 tutti i giorni, quindi vi siete già persi mezz'ora di streaming. Dannazione. Oggi siamo qui per un altro game incredibile da 60 più chino, 65, 60, 70 bombe insomma, in cui vi ho dimostrato che il DMR è ancora effettivamente rotto. Oggi usiamo DMR Far, una classe incredibile che usano un sacco di pro... Infatti l'ho copiata, cioè non è una roba... L'ho copiata, l'ho copiata. Funziona davvero. Il Far è build out in maniera nuova, poi magari nel prossimo video vi faccio vedere bene qual è la build esatta di questo Far che è devastante e questo DMR che è devastante. Un nuovo DMR che ho provato recentemente. Signori, io vi lascio il video e fatemi sapere voi cosa ne pensate. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel pollicione. Vi lascio al video e poi vi aspetto in like. Ragazzi, prevedo 80 bombe in sto game. Eh, fiammelo pulizemente, ragazzi. Va bene, va bene così, va bene così. Uniti, uniti, uniti. Intanto a destra, intanto a destra, ragazzi a destra. Unicanto. Terra. Ma ragazzi, 64 gol per uccidere una persona con un'arma. Fatto? Un'altra coppa. Ma questo è un bel game, ragazzi. 140 live. Dai, certo, va bene. Cassa subito, cassa subito. Eh, raga, placca. Compriamola, compriamola, compriamola. Ho la cassamone io, poi. No, è buono, 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 buono. Sopra, ragazzi, sopra, 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 qua. Non ho placca, zero, grazie. Eh, nianch'io. Prendetele, raga. No, ma chi l'ha tirato lì in mezzo? Eh, ti devo guardare la fregna. Eh, niente l'ha tirato in mezzo, là. Prendete queste placche, va bene. O sotto, o sotto, o sotto. Vadoo, pezzo del merda. Mettiamo sui soldi che sono placche, che sono un zero. Troppate i soldi? No. Placca? Che si gode? Eh, mi servono soldi, raga. No, ti attieni. Sono me. Soldi, altri soldi? Non ce facciamo. Soldi, soldi qua? Un botto? Raga, abbiamo un botto. Raga, raga, scusate. Prendiamo subito, andiamo subito. Corriamo a... Viene, viene. Pulis, pulis, ragazzi. Pulis, pulis, pulis. Dentro, dentro, grazie, dentro, grazie. Due, due, due. Sì, l'altro. No, non è qua. Che cazzo dico? Beh, sì, l'hai vestito, l'hai vestito qua. Ah, ok. Sì, ma che cazzo... È un pirata della strada, anche real life. Mette razza. Ok, pusciamolo. Le gocciorone anche. Non ci credo che non l'ho preso. Crackato sopra, ragazzi. Crackato sopra. Uno flyer. Flyer sopra di noi. Non c'è, non c'è. Come l'ho fatto a scendere? È volato via. Schifoso. È nato di qua. Seguiamo, non dovevo scappare. Guarda, il cottero! Crackato! Crackato, ragazzi, crackato! Ho preso cassa qua, ragazzi. Cassa qua, cassa qua. Vai. Bravo, loco. Due a terra. Bravo, loco, arrivo. Paravissimo, loco. Oh, mia, loco! Loco! Non c'è, non c'è, non c'è, non c'è, non c'è. Non c'è, non c'è, non c'è. Qua, dentro. No, qua dentro. Crackato, al giallo. Dentro, dentro. Qua, a terra. Ragazzi, è l'altra sta garage. È l'altra sta garage a lungo. Andiamo da loco, andiamo da loco. Sali. Ragazzi, tagliata, tagliata, a destra, tagliata, a destra. Pusciamo anche le legote. Dai, buono, buono, buono. Giallo, 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 ragazzi. Giallo, giallo, giallo. La taglia, la taglia, la taglia. Questa qua. Questa è dentro il bunker. Claudio, Claudio, Claudio. Una terra. Uno. No, fammi andare ben dietro. Sì, vediamo dietro. No, Candy, sei invisibile, sei invisibile, Candy. E sono entrato, siamo tutti a cazzo duro. C'è un altro, c'è un altro, c'è un altro. Mi auto resto, mi auto resto, mi auto resto, mi auto resto. Ma sono invincibile, ragazzi. Specialista, ragazzi, no, ragazzi, non prendetelo. È bacato, è bacato, ragazzi. È bacato, è bacato, ragazzi, è bacato. No, no, per me no. No, Candy, non ti fa ricaricare le armi. Ma noi abbiamo, no, ragazzi, noi abbiamo una vision, però. Ragazzi, sopra, uno, sopra. Terra. Terra anche l'olicoltrero. L'ho ucciso con l'olicoltrero. Confermatelo, d'accordo, confermatelo. No, avevamo due l'olicoltrero. No, ragazzi, me li avete distrutti tutti. Devo confermare il tipo, raga. No. Dove? No, ragazzi, c'è un'unico l'olicoltrero. Raga, proprio questo è un pezzo del merda. È davanti, no, ben, davanti a noi. Esattamente davanti. Sì, sinistra, 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 sinistra. Sì, sinistra. Sì, sinistra, sinistra, raga. Può uscire. Grazie, Matte. Devo. L'ho terrato davanti a me. L'ho terrato. Vai, Lopo. Andiamo via, 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 via. Ok, buono, 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 ragazzi. Buono, buono. Sono 91 live. Dai, dai, ragazzi, è nostra partita. Era questa partita, dai, dai. Uno, via, lo shop. Dai, ragazzi, ce la possiamo fare. Pulizia, ragazzi. Musica, musica, adesso, musica. Abbiamo finito la push. Oddio. Porco due, ragazzi, porco. Ragazzi, metterlo breve. Coprite, coprite. Sparate, sparate da me. Sparate verso di me. Stai fermo, Matte. Faccio, faccio. Stai fermo ancora. C'è stata, copri il cazzo. C'è stato di giro. Stai fermo, Matteo, 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 Pietro. Vento, 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 vento. Vento, 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 vento. Da verde, da verde, da verde. Verde. Vento, 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 vento. No, ho fatto, ho visto il cazzo. Vento, 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 vento. Era un team, tutto un team, lì, ragazzi. Vento pa' carica. Da me? Vimbrs, eh? Ho sentito qualcosa qua. Infatti... No, sei tu, Davy. Sei tu, Gene. Io sono so, ok. Aspettiamo qua, aspettiamo qua e vediamo se Candy riuscirà. Vabbè, Candy riuscirà. Vabbè, Candy riuscirà. Bombardamento, infatti, infatti, sono qua in zona, ragazzi. Sono qua in zona, lo sanno. E vabbè, tutti questi, ragazzi. Dipingato, dipingato, dipingato. Aspetta, aspetta. Vedete, sul bombardamento. Sotto, ragazzi, qua, anche la qua. E' stico. Fatto uno? Sono tre ancora, ragazzi. Ce l'avete dietro, eh? Sì, sì, sì. Un altro ancora, ragazzi, un altro ancora. Appino. Dove restare, deve restare, deve restare, ragazzi. Deve restare. Crack, crack, Gene, crack. Sto pushando. No, non pushare, non pushare. Aspetta, aspetta, Candy. Aspetta, Candy. Aspettiamo, Candy. Arrivo lì, arrivo lì. Manca un 16. Oh, dentro casa, dentro casa. Blu, dentro casa blu. Tieno. Devono uscire quelli là, ragazzi. È l'unico modo che hanno per salire di qua, eh? Casa blu, raga. Qua, qua, raga. Due team, due team, due team, due team. Due team da qua, da me. La casa, raga, com'è questa davanti? Da dietro, da dietro. Chiuso, chiuso, chiuso. Ando a casa, ando a casa. Vado qui. Davanti, raga. Davanti, davanti, davanti. Cazzo è possibile, questa cosa. Questa è l'altro, eh? Don't save. Raga, questo da dietro... Dobbiamo conquistare quella casa, eh. Dobbiamo conquistare quella casa. No, 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 no. Avete play. Sì, tenete, te la cago, te la cago. Qua, qua, qua. Thanks. Cotto, ce n'è sotto uno, ce n'è sotto uno. Oh, un bagno, un bagno, un bagno, un bagno, un bagno. Te lo lancio a razzi. Te lo lancio a razzi, ce lo imbagno? L'ho fatto, lo fatto, lo fate in bagno, lo fate in bagno, ragazzi. L'ho fatto. Tre team. Guarda, quello dentro, c'è tenza, pink blue. Va bene, va bene, teniamo, teniamo, teniamo sta zona, teniamo sta cago, è buona. Questi non possono uscire. No. Previ. Guarda, ragazzi, l'ultimo, l'ultimo, l'ultimo. È craccato, è craccato, è craccato. Ci sono fortissimi. Ragazzi, che partita. Ora, due, venti. Bello, questo game lo salvo, ragazzi. Porco, ho fatto il panico. GG. Buongiorno, ciao. Grazie a tutti.